Ehi tu che stai guardando questo video non fare proprio il no skin della situazione perché lo so che vai nel negozio oggetti a scioppazzare come un matto Infatti da oggi se ti va puoi supportarmi come creatore cliccando in basso a destra Supporto un creatore hyper legit tutto minuscolo tutto minuscolo e uguale Una volta inserito il mio codice clicca su accetta ed il gioco è fatto Grazie mille a tutti quelli che lo faranno vi lascio al video buona visione Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video di fortnite Pace 9.10 arrivata sfide uscite per la collaborazione di fortnite con NBA E ci siamo ragazzi ci siamo Allora le prime due sfide in fai centro una nuova modalità ovviamente Cambia colore di 1000 unità vi mostrerò ora come fare E danza o uso un emote fra due camion street food Vi faccio vedere anche dove sono i camion street food Ok ragazzi vi basterà andare sulla modalità fai centro Startare la partita appena ci troviamo in game vi mostro il tutto ragazzi ok Eccoci qua in partita dobbiamo aspettare i giocatori che ovviamente entrano E si avvia in automatico ovviamente Allora boys partita finalmente iniziata come potete vedere un macello Fa un sacco di casino sta cavolo di modalità E per completare la sfida che vi dirà Allora sfide cambia i colori di 1000 unità vi basterà semplicemente camminare Dove non ci sono già gli avversari tipo in questo piattello io lo sto colorando di viola E la modalità vi appunto darà i colori che voi state completando per le sfide ok E quindi fate la sfida e raccogliete le vostre monete e colorate la strada con il vostro colore appunto E la sfida avanza Ora invece per i camion street food eccoli qua ragazzi Madonna mia che casino che fa questa modalità Eccoli qua i camion street food raga Ok siamo arrivati Un attimo che riesco a fermarmi perché devo fare anche lo screen per la copertina Eccoci qua arrivati raga questi sono i due camion dove dovete ballare Faccio vedere Mettiamoci un attimo qua per lo screen Fermati gentilmente Ok balliamo raga Ed ecco fatto Questi sono i due camion Sfida completata Io vi ringrazio per aver guardato il video Mi raccomando se vi fosse stato d'aiuto lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Continuando con i vostri amici Vi aspetto il video del fort Bello a tutti ragazzi